Dunque si tratta del premio Aide Ego, confronto sul miglio per femmine di 4 anni al via in 10 dopo i due forfè, quelli di Telma e di Tosca del Rio. Al numero 1 Terry Lucio Becchetti, al 2 Tea DL Dario Battistini, al 3 Trotto Lascò, Mario Minopoli Junior, al 4 TTB Power Altobelli, al 6 Trinity Di Poggio Mario Manzone, 7 Tina Mail Roberto Muscolini in seconda fila, 9 Tirod Gianpaolo Minucci, 10 Teresita GK Antonio Storti, 11 Teoria Di Gauge Warner Martellini, 12 Tabarca Francesco Di Stefano, intanto c'è stata la rottura di Tea DL e la macchina che stacca in questo istante e dall'esterno è velocissima Tina Mail, mentre sbaglia Trotto Lascò, lungo la corda e Terry in seconda posizione davanti a Tirod. Tina, Terry e Tirod nelle prime tre posizioni, è rimasta scoperta all'esterno TTB Power, la segue Tabarca, intanto siamo al completamento della prima curva e all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune, andiamo a misurare i primi 400 metri di Tina Mail che lì completa in 29,8 alle sue spalle Terry, davanti a Tirod all'arco TTB Power che fa da punti di riferimento a Tabarca, nella cui scia è teoria di Gauge, poi il passaggio ai primi 600 in 45,6 Tina Mail è riuscita a rifiatare un attimo, intanto il gruppo disposto in doppia fila con TTB Power che è richiesta per tenersi in quota e magari avvicinare la battistrada che completa gli 800 in 1,2 abbondante, dunque Tina in vantaggio, Terry di rincalzo, TTB Power all'arco, poi Tirod e Tabarca, si va verso la chiusura del primo chilometro, mille iniziali che Tina Mail passa in 1,17,4 sul mio cronometro, intanto prova a farsi luce in terza, Trinity di Poggio, l'anticipo di Tabarca che va ad incalzare, TTB Power ormai stanca, 400 per venire a casa, 1,32 e mezzo, 3 quarti di miglio, sbuca dalla corda Terry, in anticipo su Tabarca, Terry prova l'attacco a Tina Mail, Tirod lungo la corda, poi in terza Tabarca ingresso della retta di arrivo con in vantaggio ora Terry che scavalca Tina Mail, c'è da parare l'affondo di Tabarca, contatto Tirod, Tabarca all'attacco di Terry che cerca la difesa, ma Tabarca è prevalente, Tabarca che viene a vincere Netta per il secondo, arrivo molto stretto fra quelle che erano le due più attendibili alternative, ovvero Terry e Tirod, arrivo stretto, bisogna rivederlo con la telecamera postellina con il traguardo, perché gli stacchi sono abbastanza esili, almeno così dal vivo come prima impressione, ecco Terry che è passata, Tabarca che interviene, nel finale prende ampiamente il sopravvento, va a cogliere così la terza vittoria nell'ultime quattro uscite per il secondo, ecco Tirod che rimonta Terry, è qui direi che è piuttosto dura, piuttosto dura, forse Tirod, mamma mia, ma durissima, è una foto strettissima per il secondo posto, nessun dubbio invece sulla vittoria di Tabarca, Francesco Di Stefano, Biasolo Verde, i colori della scuderia Fragale, la media intorno all'1.17.